Il Catanzaro torna a fare punti fuori casa, torna a segnare fuori casa nell'1-1 contro lo Spezia, gli ultimi gol erano relativi alla vittoria, alla bellissima vittoria di Palermo per 2-1, poi sono venute quelle brutte sconfitte per il Catanzaro sia ad Ascoli che al Reggio Emilia senza segnare, idem a Piacenza contro la Feral Pisalò, addirittura 3-0, e dire che pensare a quella partita di Palermo vinta 2-1 sembra passata un'eternità, perché quel Catanzaro che divertì, giocò un calcio bellissimo lì a Palermo con i tifosi del Barbera ad applaudire, i calciatori del Catanzaro, sembra un bel lontano ricordo, sembra un bel lontano ricordo a cui però è stato fatto seguito qualcosa di non bello, non positivo come momento per il Catanzaro, è un pareggio buono, alla luce comunque sia, tirando le somme, quello di ieri contro lo Spezia, non solo per i motivi che ho detto prima nel gol e dei punti tornati a fare fuori casa, quanto perché guardando ai risultati delle altre squadre, e su questo invito a guardare più che altro i risultati delle squadre che stanno dietro al Catanzaro, perché è inutile guardare ai risultati delle squadre che stanno avanti, l'obiettivo del Catanzaro, penso che sia quello della salvezza, che mirare ad altre cose sia soltanto controproducente, nonostante comunque ci si trovi in piena zona playoff. Pisa che ha pareggiato all'ultimo minuto a Cosenza, la Feral Pisalò che ha pareggiato a Reggio Emilia, il Bari che ha perso a Palermo, la Ternana che ha perso con il Como, aspettando ovviamente lo scontro diretto fra Ascoli e Sudutirol, oltre ovviamente allo Spezia che è rimasto a distanza di sicurezza dal Catanzaro. L'importante è che sia tornato al gol anche Iemmello, che sicuramente quando gioca c'è e si sente, e si vede. Sesto gol in campiato per Iemmello, il quarto fuori casa, quindi questi sono sicuramente i lati positivi di un Catanzaro che poi forse probabilmente ai punti meritava anche di vincere, viste le occasioni che ha avuto anche sull'1-1, con Sunas che non è riuscito ad imprimere comunque sia la giusta angolazione nel primo tempo su un colpo di testa, su Biasci che solitamente quei gol li fa, invece ha tirato fuori nel secondo tempo, con Sunas che comunque si è dimostrato che quando si accentra è pericoloso, e invece nel secondo tempo ha angolato di un ciuffo d'erba veramente di troppo il suo tiro nella ripresa, lo Spezia al di là veramente di quel miracolo di Fulignati nel secondo tempo su Ieghiello. Sì, ha fatto più possesso palla, probabilmente ci ha provato di più a livello di baricentro alzato, però forse probabilmente ai punti il Catanzaro meritava di vincere, e qua secondo me vengono anche le ombre di questo pareggio, di un Catanzaro che forse è probabilmente con un pizzico di convinzione in più e con un pizzico di paura in meno, che evidentemente il mister Vivarini non riesce in questo momento a non far avere alla squadra, perché io non guardo tanto le conferenze stampa, anzi ultimamente nemmeno mi sto soffermando più di tanto ad ascoltarle, perché ciò che viene detto comunque sia ai giornalisti e in pubblico, alle volte e spesso e volentieri è anche qualcosa che bisogna dire, qualcosa anche di facciata. Io guardo il comportamento e l'atteggiamento della squadra, che sicuramente è tornata nel 2024 con paura, tanta paura, nella vittoria contro il Lecco veramente aveva fatto una statua a Iemmello, per come ha interpretato la gara e per come ha spronato i suoi alla vittoria, anche in un momento difficile perché il Lecco poi era in vantaggio 2-1, perché poi l'aveva pareggiata 3-3, sia paura che ho visto nettamente contro il Palermo nell'atteggiamento della squadra, quasi come se giocasse col freno a mano tirato, e paura che ho visto poi anche ieri contro lo Spezia, perché un Catanzaro convinto, un Catanzaro capace di andare a vincere a Palermo, di andare a vincere a Genova contro la Samp, comunque sia in un campo come quello di Genova, un Catanzaro capace comunque sia di andare in campi come quello di Venezia, a fare anche la partita, ieri si è vista comunque sia un Catanzaro che veniva da tante sconfitte di fila, da tre sconfitte di fila fuori casa, nell'atteggiamento, su questo Mr. Vivarini secondo me deve lavorare un po' di più, poi ripeto io sono seduto tranquillamente su una sedia, questi video sono video fatti a perditempo, siete liberi ovviamente di guardarli, posso capire anche quando si critica forse un po' troppo l'allenatore, si è quasi come la voce fuori dal coro, a me non è mai interessato essere la voce nel coro, vi ho sempre detto quello che penso, ognuno ripeto è libero di guardarli o meno questi video, e quindi ripeto, vorrei muovere delle critiche un po' all'allenatore, sia quando non interviene a strigliare la squadra, che ripetutamente compie orrori, orrori non errori, orrori nel gioco dal basso, che rischiano veramente di rovinare le partite, perché poi ieri Catanzaro nuovamente è incampato in quei due o tre orrori gravi al limite dell'area, specialmente in un'occasione, quindi il senso qual è? Perdere palla, regalarla a verde, che per poco non segna, non credo sia questo, quindi si è pregati probabilmente di intervenire, anche a strigliate, anche cambiare modo di gioco, da questo punto di vista, probabilmente serviva un attaccante di peso, che la società non è stata in grado di acquistare, perché poi, per quanto il mercato invernale sia complesso, e lo ha dimostrato, se si vuole una cosa, uno va e se la prende, se la si vuole davvero, se poi si fanno altri tipi di discorsi, si alzano le mani, ovviamente, però il Catanzaro, parliamoci chiaro, non è stato in grado, la società del Catanzaro, non è stata in grado, di andare sul mercato, con delle lacune che si evidenziano da mesi, andare sul mercato e acquistare un attaccante di peso, serviva tanto, non è stato in grado, tutti i discorsi del se, del ma, del giro, non servono a niente, parla il verdetto del Catanzaro, la società US Catanzaro, non è stata in grado, di andare sul mercato, e acquistare, un attaccante, uno, di peso, che potesse anche, far sviluppare il gioco, in maniera differente, invece di ricorrere a questo, possesso palla, che ormai diventa snervante, al limite dell'area propria, quando è il rischio di perdere la palla? Paura, possesso palla snervante, e poi, il solito, il solito, gol, subito, questo cross, che sia a rientrare, che sia ad uscire, arriva un cross, e, puntualmente, il Catanzaro, prende gol. Ora, passi, il mezzo fallo, di Matteo, che ci poteva anche stare, ma quando c'è un certo direttore di gara, al VAR, il VAR, quando riguarda il Catanzaro, non si consulta, o almeno, si fa finta di non consultare, non lo so, quello che succede, ma quando c'è un certo arbitro al VAR, il VAR non si guarda, vabbè, però, perché, dare, la possibilità, ai calciatori avversari, quasi a stendere, ora voglio essere anche un po' teatrale, quasi a stendere il tappeto rosso, ai calciatori avversari, a permettergli di crossare, è successo contro il Lecco, due volte contro il Lecco, è successo contro il Palermo, è successo anche ieri, lasciare al miglior calciatore dello Spezia, il tempo di prendere la mira, e di crossare in ere di rigore, tranquillamente, il senso non lo so, così come è successo contro il Palermo, così come è successo anche nel secondo tempo, contro la Spezia, perché la realtà dei fatti, è che il Catanzaro, quando si tratta di un cross in ere di rigore, la cosa migliore da fare, è quella di fare, di pregare ai Santi, perché il Catanzaro in ere di rigore, non ne prende una di testa, o ne prende pochissime di testa, ogni cross in ere di rigore, per errori di posizionamento, per errori di marcatura, perché i centrocampisti avversari, che fanno l'inserimento, che non vengono seguiti dai centrocampi, ci sono tantissimi motivi, però quando c'è un cross in area di rigore, i difensori, i centrocampisti del Catanzaro, non ne beccano una, ieri ha giocato Antonini, non ha giocato male Antonini, ha giocato bene, non mi è dispiaciuto Antonini, un confronto aveva di testa, nel primo tempo, contro Falcinelli, e l'ha tranquillamente perso, ovviamente parlo di Falcinelli, che non è sicuramente l'ultimo arrivato, e quindi, se ogni cross diventa un pericolo pubblico, per la difesa del Catanzaro, il senso, e parlo di Sunas, di Situm, Situm, per favore, Situm, l'appello è di cercarsi di riprendere, perché è un giocatore, che è completamente fuori forma, è completamente estraneo, alla causa, in questo momento, è parlo di un giocatore, che se è in condizione, è forte, quindi, perché lasciare crossare, questi calciatori, perché anche dall'altra parte, si lasciano crossare, con troppa facilità, i calciatori avversari, e questi sono i punti interrogativi, che non devo rispondere io, che ripeto, sono comodamente seduto, su una sedia, ma deve rispondere, chi lavora, duramente, durante tutta la settimana, chi cerca di studiare gli avversari, perché ora, il Catanzaro giocherà due parete, completamente complicate, contro l'Ascoli, e contro il Sud Tirol, ovviamente il Catanzaro deve cercare, di non ripetere, la gara dell'andata, contro l'Ascoli, che probabilmente sarà quello, probabilmente deve cercare, di ripetere la gara, invece contro il Sud Tirol, dell'andata, mancherà, Van de Putt, che, voglio fare anche una battuta, sarcastica, non ha mai tirato in porta, ieri contro lo Spezia, anche quando ne aveva l'occasione, decide di tirare in porta, quando l'arbitro ha fischiato fuori gioco o fallo, con 3-4 secondi, tranquillamente decide di calciare in porta, beccarsi l'ammunizione, e saltare così una sfida, una sfida delicata, quindi, in questo momento ci sono calciatori, che mentalmente, andrebbero un po' ripresi, Van de Putt è uno di questi, anche se vanno fatti gli applausi, è arrivato ad 8 assist, in serie B, è un giocatore che probabilmente andrà a giocare in serie A, ma andrà a giocare in serie A forze da settembre, fino a giugno, è un giocatore del Catanzaro, e quindi, a buon intenditore, poche parole, così come anche altri giocatori, un'ultima battuta a Fulignati, che pubblica sul suo Instagram, quotidianamente, ogni settimana pubblica, le statistiche delle uscite alte, delle prese, delle parate, ieri nell'uscita alta, a Fulignati, poteva tranquillamente stare in porta, visto che non esce spesso, forse è meglio quando non esce.